Grazie a tutti. Chiudere gli occhi per continuare a vedere. Mi perdonerete se inizio il mio intervento citando una frase già scelta da un altro relatore, il professor Gris, ma lo simbolo contenuto in questa frase, cecità vedente, ha contribuito per così dire ad aprirmi gli occhi. L'apparente prigionia della cecità, forse metafora di altre disabilità, veniva trasfigurata da Pierluigi Cappello in libertà attraverso l'atto sommamente creativo del poetare. Franco Fabbro racconta che Cappello spesso gli diceva, a proposito della composizione poetica e delle forme metriche, non esiste maggiore libertà della costrizione, intendendo dire con questo che le forme metriche esatte e costrittive non scoraggiavano la sua libertà creativa, anzi, la stimolavano. Costituivano una sfida capace di risvegliare in lui le migliori qualità artistiche. La dimensione pedagogica di Pierluigi Cappello, per quanto mi riguarda, si dipana proprio a partire da ossimori che si apparentano ai due sin qui evidenziati, cecità vedente, libertà nella costrizione, e hanno vari elementi in comune, particolarmente col secondo. Personalmente ritengo che egli abbia sviluppato il proprio discorso educativo intorno alla progressiva ricomposizione di questa dicotomia. Per Cappello, il percorso educativo per il poeta contiene una potenziale contraddizione dovuta al fatto che da un lato l'aspirante deve appropriarsi della tradizione poetica, cioè assoggettarsi a una costrizione, e dall'altro deve sviluppare la capacità di rigurgitare ciò che ha preso dalla tradizione come se fosse un qualcosa di naturalmente originale e idiosincratico, cioè esercitare una libertà. In ciò risuona uno dei problemi di base della pedagogia, educare e socializzare l'individuo senza snaturarlo, temperare natura e cultura, creare un uomo rispettoso delle regole, ma al contempo autonomo e creativo. Discorso, naturalmente foriero di dilemmi, come quando ad esempio la pedagogia si interroga sui giusti limiti della direttività nella relazione educativa, sul ruolo della libertà e sull'autoeducazione del fanciullo. Se vogliamo, possiamo qui affrontare il tema partendo dal suo ideale punto di arrivo, già delineato da Rousseau. L'educazione può considerarsi riuscita quando l'allievo può fare da solo e non ha più bisogno del maestro, ma fare da solo vuol dire essere contemporaneamente consapevole delle regole, capace di rispettarle responsabilmente, eppure al contempo veramente libero, creativo e autonomo. Una potenziale contraddizione questa a partire dalla quale si dipana gran parte del discorso pedagogico da Rousseau in poi e alla quale, da Dewey a Montessori a Alexander Neill, si sono cercate varie possibili soluzioni. Ma torniamo ora all'educazione alla poesia. In questo caso, il maestro di cui parla Rousseau è rappresentato dalla tradizione, dalle regole contenute nel corpus letterario, da un certo tipo di forma, e vedremo nelle prossime pagine, con la brevità che ci è concessa dallo spazio di questo intervento, in che termini Cappello abbia parlato di ciò, nelle sue lezioni. Cerchiamo dunque di sviscerare meglio questi concetti. A mio avviso, come dicevo, un importante filo conduttore significativo per la pedagogia, che Cappello ha considerato nelle otto lezioni magistrali tenute presso la Facoltà di Scienze della Formazione tra il 25 settembre e il 19 ottobre del 2007, e i contenuti del presente intervento sono prevalentemente basati su tali lezioni, è legato all'affermazione che la poesia è qualcosa che fa parte della storia, fa parte di un percorso di tradizione, e che però ambisce a diventare natura. Nel corso delle lezioni, Cappello assimila tale tradizione a una disciplina ferrea in origine, poi progressivamente nel tempo sempre più permeabile a quelle che egli definisce slogature, e che vanno dalla canzone libera leopardiana e gli indicasili bisciolti, nelle lezioni Cappello nota che nell'Ottocento l'effrazione della tradizione investe per primi sistemi strofici, progressivamente poi anche ai sistemi versali, cioè ai metri, e infine nel Novecento l'interesse principale degli autori sarà quello di indagare il funzionamento del ritmo, quindi le slogature si spostano oltre il campo delle convenzioni sociali per andare verso questo fattore legato, secondo Cappello, alla soggettività. Quest'ultima affermazione ci fornisce lo spunto per introdurre un'altra dicotomia, in qualche modo parallela alle precedenti, di cui Cappello ha parlato ampiamente nelle lezioni, e cioè la contrapposizione tra ciò che in poesia egli identifica con l'istituzione, costituita dal metro, che è una convenzione sociale, e la soggettività, che invece sarebbe legata alla libertà del ritmo. Sempre a proposito della ferreità della tradizione, Cappello addirittura, echeggiando forse il Bushido, assimila l'apprendimento delle tecniche tradizionali da parte del poeta al sublime colpo di spada del samurai. Un samurai si preparava tutta la vita per calibrare il suo tocco di spada, e questo colpo doveva essere silenzioso ed efficace, ma come arrivare a quel silenzio e quella efficacia? Come faceva il samurai a raggiungere quella fluidità del gesto? Lo faceva attraverso un percorso che Cappello assimilava a un percorso iniziatico, imparando una tradizione, ripetendo questa tradizione, ripetendo precisi gesti, posture e posizioni. Quando esse erano talmente assimilate da venire dimenticate, da andare in automatico, in quel momento il suo apprendistato non era più un percorso della tradizione, ma cominciava a diventare natura. Questo, secondo Cappello, varrebbe anche per il torero, e infine per il calligrafo, che con un gesto magistrale risolve il più complesso problema grafico. In questo confronto tra tradizione e natura, che come dicevo reputo essere uno dei fondamenti pedagogici del pensiero di Cappello, non ho potuto fare a meno di indovinare un eco crociana. Nel suo trattato sulla poesia, Croce afferma, parlando dell'educazione del poeta, che dentro ogni creazione poetica vi è la poesia dei secoli, che si trasfonde e trasfigura nella sua nuova espressione. Il poeta è sollecitato allo stesso tempo dall'impeto di creare originalmente e dalla necessità di intonarsi alla voce della poesia che ha risuonato prima della sua e di risponderle come in un coro. Sembra insomma che il poeta contemporaneamente dica a se stesso «sì te stesso», «sì fedele alla natura», ma paradossalmente gli dica anche «segui i grandi modelli». Scrive Croce che questi moniti potrebbero sembrare contraddittori, invece sono convergenti, in un unico atto che allo stesso tempo libero e necessario, spontaneo e disciplinato. In esso i due elementi sono entrambi essenziali, tanto che se se ne elimina uno svanisce anche l'altro. Considerata isolatamente, l'imitazione della natura non ha significato, è un mero esercizio di bravura che non appartiene né alla conoscenza né all'arte. Del pari, imitare una poesia non significa certo reiterarla, non significa moltiplicarla attraverso ristampe e men che meno plagiarla. D'altro canto il cogetto di originalità creativa assoluta e astratta non significa nulla. Il mondo non può iniziare da zero con ogni nuovo poeta. Anche l'antica poetica, dopo aver disquisito a lungo la questione se la formazione del poeta dipenda dalla natura o dalla tradizione, alla fine riteneva che fossero necessarie tutte e due. La conoscenza della tradizione senza il talento creativo a nulla vale, e neppure vale quest'ultimo se lasciato a se stesso, e senza quell'affinamento della disciplina che solo un certo rispetto della tradizione può dare. La formazione del poeta si opera dunque attraverso questo moto unico e duplice, allo stesso tempo ricollegarsi da un lato alla tradizione della poesia, ritrovando nella voce l'eterno motivo che la poesia canta, e al contempo scavare e scoprire la propria originalità, la propria personalità, la propria voce. Anche il poeta apparentemente più spontaneo e naturale in realtà opera quel ricongiungimento, magari attraverso qualche lettura accidentale, qualche parola afferrata nella conversazione, e in altre fonti tra le più sorprendenti e impensabili. A volte l'unica fonte della tradizione consiste in quell'unico poeta a cui il creativo incolto si è affezionato. Però, individuarsi, districandosi dall'iniziale imitazione, significa considerare anche altri limiti che vanno oltre il piano formale. Chi vuole diventare un poeta deve distaccarsi dalla tradizione, afferma Cappello, anche sul piano contenutistico, riconoscendo e isolando gli elementi che sono suoi e soltanto suoi. Questi elementi, egli afferma, vanno chiamati oggetti, anziché cose, perché l'oggetto è una forma determinata ed è come se portasse su di sé le impronte dello sguardo, della percezione di un essere umano, appunto, dell'unico e irripetibile poeta. Occorre saper riconoscere gli oggetti che costituiscono il mondo di un poeta, e occorre che il poeta per primo sappia quali sono i propri oggetti. Chiunque scriva versi sa, ad esempio, che deve prestare attenzione a parlare del cavallo stramazzato, del rivo strozzato, dell'anguilla che risale il goriello, perché questi oggetti hanno già configurato il mondo poetico di Montale. In tal senso, quando Cappello riceveva i dati lo scritti di aspiranti poeti, il suo primo gesto pedagogico era proprio vedere quali fossero gli elementi di fascinazione che essi traevano da altri autori, per metterli in guardia contro la dipendenza da essi. Di solito, diceva, le signore di una certa età subivano il fascino di Montale Ungaretti, mentre più giovani a volte erano legati al mondo della Big Generation, oppure a quello dei cantautori maledetti americani, tipo Jim Morrison. Tutti questi elementi di fascinazione, afferma Cappello, intralciano la strada di un poeta principiante e sono anche elementi che allo stesso tempo allontanano dalla vera poesia, perché la forza della poesia sta nella sua unicità stilistica. E sono proprio gli oggetti che sono contenuti nel testo a contribuire in modo decisivo a questa unicità, svolgendo la funzione di firma di un autore. E gli oggetti che costituiscono il mondo di un poeta hanno una doppia faccia, affermava Cappello, e qui sembrava ricollegarsi a Leopardi. Se si guarda una bottiglia tenendola in mano, se si considera il peso, la forma, la luminosità, tale oggetto sta al di fuori di chi lo considera. Eppure egli ne ha anche un'immagine interiore, tale oggetto che preso al di fuori dell'osservatore ha un certo significato, dentro di lui ne assume un altro, in relazione anche a tutti gli altri oggetti che egli ha considerato nel tempo. Quindi gli oggetti hanno una propria capacità di rappresentazione, e l'oggetto poi crea una presenza, perché afferma Cappello, quando tu ti riconosci in esso, è come se esso portasse un pezzettino di te, anzi, è come se tu ti riversassi in quell'oggetto che da quel momento in poi ti rappresenta. Così il poeta, un poeta, sentendosi solo, si riversa nell'aratro abbandonato in mezzo alla magese. Gli oggetti sui quali lo sguardo normalmente scivola via con assoluta indifferenza possono acquistare all'improvviso in un qualsiasi momento un'impronta nobile e commovente che nessuna parola forse è abbastanza piena da sapere esprimere, dice Cappello rifacendosi a von Hofmannsthal. Letto in circostanze, in certe circostanze, l'oggetto parla per sé e porta con sé l'essere, il modo di vedere, di guardare del poeta. Allora se il poeta si affida alla capacità di rappresentazione di quest'altro che è un oggetto, quest'altro diventa un emblema della sua poesia, in grado di intrattenere un rapporto di comunione con coloro che a loro volta guarderanno questi oggetti emblematici del mondo del poeta. L'oggetto quindi diventa un tramite tra il poeta e il mondo. Questi oggetti poetici obbediscono a un criterio di memorabilità e la memorabilità funziona se noi disponiamo di oggetti che sono soltanto nostri, che appartengono soltanto al nostro mondo. Individuare questi oggetti dunque, pedagogicamente parlando, vuol dire individuarsi e tanto più questi oggetti sono originali e nostri, citando Carl Gustav Jung, tanto più la nostra individuazione sarà completa. ma paradossalmente in questa rappresentazione ci siamo obituati ormai alla convergenza degli opposti, l'oggetto che ci individua come poeti e come uomini magari fino al punto di fare di noi dei maledetti, degli esuli, come Nerval, l'Otramon, è un modo per rendere universale qualcosa che era individuale. La vita del poeta tutta localizzata e alla quale nessuno si interessa perché è la sua vita, perché sono le sue cose e così via, diventa memorabile nel momento in cui il poeta è in grado di individuare quegli oggetti e selezionarli affinché da un lato lo individuino come autore, dall'altro facciano da ponte tra lui e chi sta al di fuori di lui. Questi oggetti che diventano simboli hanno a che fare col mito perché, come dice Elia Scanetti nella Coscienza delle Parole, la poesia è nata per cantare il mito. Dove si cela il mito nell'oggetto? Oltre che trovare noi stessi dentro gli oggetti, c'è un modo di trovare in essi una realtà ulteriore dentro la realtà. Ciò avviene quando una realtà prima diventa una realtà seconda e questa realtà seconda è diventata più evidente e più importante della realtà prima. Cappello cita l'esempio del mare in tempesta nel quale l'obiettivo fotografico di José, Enrico e Azevedo evidenzia la figura di un vecchio dalla barba fluente che guarda il cielo in subbuglio, il Dio Nettuno. Questa divinità, la realtà seconda che l'occhio e la macchina del fotografo hanno saputo evidenziare nella realtà prima della tempesta è una realtà per così dire al quadrato ed è così perché è stata innervata dal mito. La poesia deve costruire queste cose, il modo di procedere della poesia è precisamente questo, è un vedere, una realtà seconda dentro la prima realtà e questa realtà seconda deve assumere un'evidenza e una concretezza maggiori della realtà prima. questa è la poesia, è una schiusa della realtà. Ma per cappello la tradizione è soprattutto la conoscenza scrupolosa di certe regole formali della composizione. Per un aspirante poeta attingere alla tradizione come dimostrano i contenuti del suo corso considerati nella loro totalità vuol dire in primis la ricerca e l'analisi delle regole istituzionali all'interno delle opere precedenti e la comprensione del modo in cui esse sono state utilizzate rispettate o slogate e questo che conta veramente nella formazione dell'aspirante poeta. La poesia è uno spazio organizzato secondo regole all'interno di quello spazio avviene tutto come nelle carte geografiche del mondo antico tutto ciò che rimane all'esterno invece è Ixunt Leones per effetto di una selezione delle parole si creano delle immagini che si sviluppano e si compiono dentro una struttura linguistica che è basata sulla ricorrenza di certi elementi e questi elementi sono definiti da cappello incantatori gli elementi in questione sono i suoni i ritmi i metri le rime le strofe secondo cappello imparare a fare poesia vuol dire imparare a operare una selezione dalla poesia si toglie proprio barrando lo spazio la selettività esclude tra la molteplicità di parole possibili quelle che non sono funzionali al testo dai vari punti di vista considerati finora metrico ritmico degli oggetti e via dicendo cappello inizia dalla metrica per tanti secoli la metrica regolare l'utilizzazione di forme di metri istituzionali ha costituito per chi scrive un mezzo comodo per escludere l'eccedente per togliere l'irrilevante e attuare una forma particolare di intensità lo spazio chiuso del verso rendeva immediatamente riconoscibile l'elemento superfluo la zeppa dice cappello e nello spazio concluso per esempio di un sonetto la zeppa emerge chiaramente un cattivo poeta è colui che per fare un sonetto riempie senza discrezione la forma astrattamente prestabilita per cui noi potremmo avere un sonetto fatto secondo le forme canoniche che rispetta tutto ma non è poesia e il ritmo nella poesia il ritmo si realizza secondo delle forme di ripetizione ripetere in poesia significa dare una struttura ad esempio attraverso il ritorno periodico di accenti oppure attraverso la rima che inizialmente assieme all'ultimo accento del verso ad esempio in un indecasillabo serviva a delimitare lo spazio nella poesia classica non sono le parole che rimano è il verso che rima con il verso con l'esplosione delle forme che ha avuto evidenza tra fine ottocento e primi del novecento le parole hanno cominciato a rimare con le parole per cui una parola poteva tranquillamente rimanere all'esterno del verso e poteva rimare secondo scansioni irregolari la poesia è il ritmo il ritmo è il ritorno è il ritorno di ciò che è riconoscibile quasi come nel gioco del nipotino di Freud che lanciava un oggetto via dalla culla per poi recuperarlo ripetendo fort da via ecco di nuovo gesto e vocalizzo musicale in cui la psicanalisi già riconosceva tutta la combinatoria da cui sorgerà l'organizzazione significante questa è una frase di Lacan e Cappello nelle sue lezioni sembra dirci qualcosa di simile a proposito della poesia a lezione egli cita esplicitamente i bambini che gettano l'oggetto che hanno in mano e poi lo riprendono l'avete mai visto? chiede agli studenti essi lasciano qualcosa la perdono e poi la ritrovano la pienezza è in quel ritrovarla insomma in questo senso il ritmo stesso è sospeso tra la paura della perdita e la felicità del ritorno a questo meccanismo che egli definisce ancestrale è assimilabile il ritmo della poesia la poesia è il ritmo è nata con la percussione e per paradosso continua Cappello sotto questa luce le parole potrebbero essere perfino superflue sono venute soltanto dopo le parole prima c'era il ritmo e la rima sarebbe per così dire il precipitato che noi riconosciamo di quella fase primordiale in conclusione il ritmo è una cosa e investe la nostra area individuale il metro invece è qualcosa di istituzionale Cappello per dimostrare la differenza tra l'aspetto soggettivo del ritmo e quello oggettivo del metro impiega ben due intere lezioni nelle quali sviluppa in modo articolato e completo la descrizione tecnica di entrambi gli aspetti la scuola e la poesia non si può ridurre l'autodidattismo del poeta disciplina scolastica e non si può neppure aiutarlo e completarlo attraverso la disciplina scolastica scrive Croce che la scuola è per la letteratura e non per la poesia e nella letteratura stessa non già per formare lo scrittore che si forma da solo e solo quando un pensiero o una passione lo muove e questo pensiero e passione in lui riescono a trasformarsi in stile la scuola in realtà può insegnare solo quello che si può insegnare e cioè domare e raffinare la rozzezza dell'espressione immediata dandole una forma composta e corretta un tempo c'erano le scuole di poesia e nelle università anglosassone vi sono oggi vari corsi di composizione in passato le scuole di poesia erano solo scuole di versificazione perché i costumi della società gli usi rituali e cerimoniali prevedevano che qualsiasi gentiluomo dovesse saper scrivere composizioni in metro a fini celebrativi ludici o solenni ma pedagogicamente parlando questo si avvicina più all'addestramento che alla vera educazione estetica con l'addestramento non si scrive una pagina di Thomas Bernard o di Georg Trakel con l'addestramento non si può insegnare la spontaneità e la libertà della genialità questa sola sa ritrovare col proprio travaglio nel profondo dell'animo o se preferiamo dell'inconscio dei contenuti che si possono ricongiungere grazie al mezzo della disciplina e della tradizione al genio intero dell'umanità afferma Croce anche Cappello riconosce la paradossalità del problema dell'insegnamento istituzionale della composizione poetica e gli dice c'è l'istituto d'arte c'è l'istituto tecnico c'è la ragioneria ma la formazione di un poeta non è riducibile a un istituto è un insieme di fattori imponderabili un poeta si trova sempre nella condizione di saggevole di essere un autodidatta o in altre parole anche un dilettante e gli resta sempre un dilettante che sopravvive facendo altro mestiere e cita Giovanni Giudici che faceva il copywriter Raffaello Baldini che lavorava la Pirelli e chi faceva il vigile urbano e chi il giardiniere la scuola non produce poesia Sabba ha fatto la quinta a ginnasio Vincenzo Cardarelli sotto l'etichetta compi studi irregolari ha fatto la quinta elementare Montare era ragioniere ed è stato bocciato in terza all'istituto tecnico forse conclude Cappello la vera scuola del poeta è questo trovarsi ogni volta davanti al foglio bianco come se fosse la prima volta è una sfida è una prerogativa di un poeta trovarsi davanti al silenzio della pagina vuota Vislava Zimborska afferma che nonostante tutto il possibile bagaglio culturale un poeta non si abitua mai alla sua scrittura e nel momento in cui si abituasse cesserebbe di essere poeta perché ogni volta deve essere mantenuto lo stesso slancio creativo degli inizi è in questo slancio che si annida la natura pronta a tradire la tradizione ma a tradirla per amore per fare qualcosa di nuovo e di bello vi ringrazio